Ancora Calori a cercare Biancolino, Biancolino per Caputo, c'è Picciolo libero sulla sinistra, lo serve Caputo. Piccioli, Picciolo limite dell'aria, ancora Picciolo, il gioco di gambe prova poi la conclusione col destra, c'è il gol! Il gol di Picciolo, 2-0 per il Salerno Calcio al ventunesimo minuto del secondo tempo. Picciolo dopo un gioco di gambe ha tentato la conclusione personale e ha segnato, ha beffato Di Leo sul proprio palo, sul primo palo. Gol quindi di Picciolo, schierato titolare quest'oggi da mister Perrone e Picciolo che è andato a festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi salernitani. Cambia quindi il risultato allo stadio di Villa Cidro.